Ed eccoci qui tornati, ben ritrovati, ben ritrovato Francesco, ben ritrovati a voi il pubblico che ci segue a casa Ed è passata già un'ora Francesco Come si dice? D'altronde si dice che il tempo passa velocemente quando si è in buona compagnia e ci si diverte Assolutamente, il tempo vola con quanto fiato Vola Certo, era così Allora, non è che devo rettificare ma devo aggiungere Devo aggiungere Perché fare un'ottima informazione, una giusta informazione è quello che noi abbiamo Il nostro obiettivo è quello, no? E noi lo dobbiamo inseguire Allora, Margaret che è la regina di Danimarca Attualmente è la più longeva, è l'unica a regnare in Europa Perché quella più longeva adesso è morta purtroppo Quindi si aggiudica lei il primo posto Tra l'altro lei è cugina di terzo grado dell'Elisabetta Elisabetta, Elisabetta Elisabetta, Elisabetta Elisabetta nostra E tra l'altro, tra l'altro, i 50 anni di regno della regina Margherita di Danimarca Dovano essere festeggiati in gennaio Poi in gennaio è arrivata la variante Omicron che te lo dico a fare Quindi sono stati spostati a questo settembre A questo settembre Domenica ci doveva essere, certo, il 18 Cosa? Quello che ti dicevo prima Eh ma non si può più fare adesso Bravissima! Il giro in carrozza per tutto a Copenaghen La parata davanti al castello, al palazzo reale di Amalia E' un borgo meraviglioso E non si farà più ovviamente per rispetto alla scomparsa della regina Elisabetta E anche perché immagino giustamente che il 19 ci saranno i funerari della regina Elisabetta Quindi sono due impegni comunque istituzionali reali che non possono conciliare tra di loro Assolutamente sì, cara Francesca E sai, nel mio viaggio, io sono andato, questo è stato a Copenaghen Sì, com'è Copenaghen? Io non so come è stata Vabbè ma questo interessa credo a pochi, molto cari Beh no, comunque è buono a sapersi che comunque facciamo informazioni Informiamo anche che Copenaghen è una città molto cara Però è bella, ne vale la pena Se si parla di energia, Copenaghen diciamo è la meta, no? È la mecca per quanto riguarda l'energia, il termo realizzatore Insomma, si vive bene, stipendi molto alti E c'è tutto un giro Ecco, adesso noi diamo il più caloroso benvenuto Bentornato a Cusang Italia TV, bentornata a pomeriggio con noi Alla dottoressa Giovanna Capuzzo È un piacere da parte mia perché è la prima volta che la conosco Eccoci qua Buonasera dottoressa Buonasera a voi Vicepresidente di Feder Consumatori Con la dottoressa Capuzzo, spesso e volentieri Sono quasi due anni oramai, dottoressa, se non sbaglio Che ci scambiamo delle idee, radiofonicamente e televisivamente La prima volta che ho conosciuto la dottoressa Capuzzo Parlavamo di Dazon Dazon che il consumatore lo pagava e Dazon che incassava i soldi ma non funzionava Quest'anno è di successo e va bene Scorso anno altri problemi Quest'anno ancora adesso è l'argomento crisi energetica Io vorrei parlare con lei dottoressa di qualcosa di bello Dare delle buone notizie ai consumatori Non ci riusciamo però in quest'epoca Guardi, sfortunatamente mi dispiace deluderla Ma in questa fase storica le buone notizie fanno fatica ad arrivare Anzi purtroppo mi dispiace essere foriera di non proprio piacevolissime notizie In campo energetico Eh sì, purtroppo, visto che l'autunno che ormai è alle porte Ci riserverà ai noi ulteriori aumenti Bene, dottoressa con Francesca in redazione Siamo rimasti molto colpiti dalla storia di un locale nella capitale Con una bolletta che è andata alle stelle Vogliamo vedere il servizio? Sì, il servizio sul piccolo diavolo, locale di Roma E ecco il servizio Sto preparando le candele Perché dalle 20 alle 20 e 30 Spengiamo tutte le luci Sia internamente Quindi internamente utilizziamo queste E poi esternamente ai tavoli Ai clienti daremo queste Dalle 20 alle 20 e 30 Diciamo che è simbolico Perché per far capire ai nostri clienti Quindi all'opinione pubblica Le difficoltà che stiamo avendo Con gli aumenti dell'energia elettrica Che sono veramente insostenibili Nell'ultima bolletta c'è stato un costo triplicato Da 2.300 euro a 6.950 Il costo al kilowatt è passato da 0,11 centesimi a 0,44 Questo è il primo scontro che abbiamo avuto Il primo impatto Devastante Abbiamo visto dottoressa Che infatti da Ascoltando le parole di questi gestori Che comunque per quanto riguarda Questa situazione energetica E questa crisi Si rischiano moltissimi posti di lavoro Sì assolutamente Diciamo che purtroppo Questa crisi sta colpendo indistintamente Famiglie ed imprese Con il rischio che ovviamente Ben dite voi Quello dal punto di vista occupazionale E anche quelle delle ricadute Che sono ovviamente Gli aumenti che riguardano le attività Perché ben sappiamo che purtroppo Le attività Dopodiché Nel momento in cui offrono Dei beni o dei servizi al consumatore È chiaro che in qualche modo Devono pur portare avanti E sopravvivere E quindi ci sarà un notevole aumento dei prezzi Aumento dei prezzi Che abbiamo già verificato Essersi già abbattuti Su dei generi di prima necessità Quali per esempio Il latte, i formaggi, la carne Che risentono pesantemente Di questi momenti È chiaro Dottoressa Pane pane vino al vino Facevo un ragionamento Ditemi se sbaglio Francesco ovviamente Dimmi se sbaglio Anche voi telespettatori Ce lo potete scrivere ovunque Andate sul nostro sito per email Francesco alle ore 17.09 Il 12 settembre Ha detto questo e ha sbagliato Filosofi, ingegneri, scienziati Tutti parlano e dicono Ok, si accende il gas La pasta Per buttare la pasta Quando l'acqua bolle Si spegne Si butta la pasta Si dà un minutino in più La pasta viene buona lo stesso Questo è uno dei tanti rimedi Me lo lasci dire Dottoressa Della nonna Che in questo momento Servono e non servono Io sono convinto Che l'unico rimedio Che si possa apportare L'unica miglioria Che si possa apportare È una miglioria politica È l'unica, dottoressa Sbaglio? Eh sì, no Indubbiamente Non posso che essere concorde con lei L'unica soluzione Effettivamente tangibile E concreta Che possa dare un aiuto Effettivo alle famiglie All'imprese È quello dell'intervento politico Intervento politico Che deve essere Quanto mai urgente In questo momento Vabbè Di campagna elettorale È il caso che Come alcune forze politiche Stanno dicendo Si fermi un attimo E ci si metta a pensare Concretamente A quali iniziative Poter prendere Nell'immediato però Perché più il tempo passa Più la situazione Si sta aggravando Poi dottoressa Abbiamo anche visto E ce l'ha fatto anche presente Lei Ma lo vediamo anche Dalla nostra quotidianità Che il Comunque questa crisi Oltre che sul produttore Si rispecchia anche molto Sul consumatore Eh sì Assolutamente sì E tra l'altro Il rischio è che Stanno aumentando Le famiglie In povertà energetica E ora Parlare di famiglie Vulnerabili È molto complesso Perché sono sempre Di più le famiglie Che si trovano In difficoltà A dover far fronte Alle spese quotidiane Noi ci troviamo Di fronte a famiglie A nuclei familiari Che a fine mese Si trovano Nella difficoltà Di dover scegliere Se pagare le bollette Piuttosto che Acquistare generi alimentari Per esempio Ecco E qui la politica Come dicevamo prima Dottoressa Ha un impatto fondamentale Attenzione però Perché in campagna elettorale Vale tutto E la campagna elettorale Confonde Mischia le carte Ed è anche Dottoressa Della pubblicità Se vogliamo Per delle soluzioni Che devono arrivare Che magari vengono promosse Ma che poi Non se ne fa più niente Pareri politici Li cominciamo a sentire? Ascoltiamo subito I pareri politici Partiamo con Di Maio Il parere di Di Maio Ecco il servizio I costi delle bollette Sono diventati insostenibili Io sto incontrando Sempre più aziende Che stanno chiudendo O si stanno indebitando E chiuderanno Tra qualche mese La stessa cosa È per le famiglie Dobbiamo intervenire subito Con un decreto taglia bollette Lo Stato deve pagare L'80% Di una bollette Finché in Europa Non otterremo Una soluzione definitiva Che è il tetto massimo Al prezzo della cassa Questa è l'unica soluzione Che abbiamo in questo momento E come impegno civico Proponiamo Un decreto taglia bollette Che sia in grado Di rifondere I commercianti Le imprese Le famiglie Di almeno l'80% Costa 13 miliardi I soldi ci sono Perché lo Stato Perché lo Stato Sta incassando di più Da tutto quello Che dipende Dall'inflazione Quindi abbiamo I soldi Come è stato Per aiutare Queste persone A non chiudere E ad affrontare Questo momento Così difficile Il decreto taglia bollette È l'unica soluzione Che abbiamo Per l'emergenza Che stiamo attraversando Io non voglio Essere polemico Per forza Dottoressa Lei mi conosce Sono tutto Tranne che polemico Francesca anche Però io Dico Mi domando E dico È necessario Fare polemica Su questi argomenti Direi di sì Perché comunque Ci riguardano E ci toccano Nella vita Nel quotidiano Ma è così Ma se dobbiamo Trovare una soluzione Io e Francesca Romana Magri Dottoressa Capuzzo Ci mettiamo insieme Ne parliamo Discutiamo Cerchiamo di capire Quale sia la soluzione Migliore del caso Ma chiaro Anche se io indosso La maglietta Dico una squadra così A caso L'è la Roma E l'è della Lazio Cioè Su dei beni Che sono proprio Di prima necessità Dottoressa Le fazioni Contano e non contano Qui io mi rendo conto Che Di Maio Ne dice una Salvini Che ascolteremo tra poco Ne dice un'altra Toccherebbe invece Andare tutti insieme Verso un'unica direzione Per sbrigarci Perché sono d'accordo Solamente sul fatto Che bisogna fare le cose di fretta E soprattutto Perché comunque C'è la vita della gente In ballo Bravissimo Di famiglie Eh sì Assolutamente Non posso che Concordare con le nostre Valutazioni Che sono anche le nostre Penso quella Della maggior parte Degli italiani Ovvero di quelli Che di politica Non si occupano Direttamente La cosa In qualche modo Assurda E un po' paradossale È che comunque Di crisi energetica Ne stiamo parlando Da quasi un anno E solamente adesso Che siamo nel clou Della campagna elettorale Devo dire che L'argomento Ha scosso abbastanza Gli animi E pare che tutti Abbiano l'urgenza Di trovare una soluzione Soluzione che però Come si diceva prima Deve essere concreta Attuabile E le cui ricadute Non devono essere Per forza Un aumento Del debito pubblico O uno spostamento Di bilancio Ci deve essere fatta Una valutazione Con attenzione Di tutte le risorse Che sono oggettivamente Disponibili Ed utilizzare quelle Proprio a ristoro Delle famiglie E dell'impresa E così Abbiamo sentito Il parere Di Luigi Di Maio Adesso invece Sentiamo cosa dice A riguardo Il leader della Lega Matteo Salvini Terribilmente preoccupato Perché l'elezione È il 25 settembre La prima seduta Delle nuove camere È il 13 ottobre Quindi vuol dire Che il nuovo governo In carica Ce l'hai per fine ottobre Un mese e mezzo Quanti negozi E quante botteghe Avranno chiuso In questi 50 giorni Alcune decine Di migliaia Anche qui È molto deciso Il leader della Lega Ecco Dottoressa Io mi affiderei anche Tra poco ne parleremo No? Di noi La comunicazione Quanto è importante I politici che sbarcano Su TikTok Ad esempio Soprattutto in visione Di quelle che saranno Le elezioni politiche A breve Che avverranno Il 25 settembre Esattamente E se posso esprimere Il mio personalissimo parere Di Maio L'ho visto Deciso Convinto Molto Come dire Molto Chiaro Molto secco Ecco Stessa cosa Matteo Salvini Quindi torniamo Dottoressa Al discorso Che facevo prima Che Sono d'accordo Solamente su una cosa Sulla decisione Cioè nello stringere Nel farlo subito In base a questo Non voglio farle commentare Dottoressa Capuzzo Alle questioni politiche Sia chiaro Feder consumatori Come si sta muovendo Allora noi abbiamo fatto Più volte Delle richieste esplicite Al governo Al governo Che c'è stato Al governo attuale Al governo che verrà Chiedendo l'impegno Da parte di tutte le forze politiche Per mirare tutti Verso una stessa soluzione Ovvero quelle di sostegno Al reddito Alle famiglie E alle imprese Noi avevamo già stilato Alcuni mesi fa Quando il problema Dell'energia E del gas Stava cominciando Ad aggravarsi Delle richieste chiare Puntuali Alcune delle quali Pare siano entrate Nell'agenda politica Solamente adesso Fa sempre un po' Specie Ribadisco Il fatto che Come al solito I nostri governanti In qualche modo Nel momento stesso In cui siedono al potere In questo caso Pare si dimentichino Di quelle che sono Le realtà La realtà La percezione Reale Della vita E cosa le famiglie Stanno vivendo Purtroppo In questo drammatico momento E quindi Le dico Benvenga Che finalmente La politica Riesca a trovare Laddove lo troverà Un punto di caduta Comune Però ribadisco La questione è urgente Adesso basta fare proclami Basta fare promesse E l'importante Agire L'importante è agire Diciamo che questa è una linea guida Con cui siamo tutti Totalmente d'accordo Si potrebbero aprire Anche tanti altri discorsi Su come si comporta Con l'energia L'amministrazione pubblica Rispetto al privato Noi lavoriamo In un'azienda privata Meravigliosa Abbiamo adottato Determinate regole Per combattere Questa cosa Ma non l'abbiamo fatto adesso Dottoressa Capuzzo L'abbiamo fatto Sei mesi fa Sette mesi fa E questa è la differenza Cioè si lavora Velocemente Facendo queste cose Non parlando Nel campagna elettorale Perché poi mi rischia Di essere fuffa Pensiero mio personale Come dice Antonio Castano Sbaglierò Pensiero tuo personale Che io accolgo E condivido Molto bene Sono contento Sono contento E questo dottoressa Ecco Domanda che mi viene Su due piedi Mi perdoni Magari può essere Anche una banalità Dottoressa Capuzzo Per il consumatore Si muove In un certo modo Altre riunioni Di consumatori Anche Siete d'accordo Su tutto No Allora guardi Le misure Di cui avevo Detto prima Che sono state presentate Tempo fa Al governo Sono state sottoscritte Da tutte le 19 Le associazioni Dei consumatori Iscritte al Consiglio Nazionale Consumatori Utenti Quindi oggettivamente Noi prima della politica Avevamo trovato Una quadra E parecchi punti In comune Sui quali ovviamente Portare avanti Le nostre battaglie Per forza Ancora pareri politici Francesca Ancora pareri politici Sì Sentiamo anche Ciò che ha Dire Ha da dire Il ministro Il deputato De Poli Ci segnalano Dai territori Che le società Fornitrici Di energia elettrica E gas Stanno chiedendo Alle imprese Delle fidei Usioni bancarie Costosissime Questo è gravissimo Perché potrebbe Portare alla chiusura Di moltissime aziende Ho subito posto La questione Sul tavolo del governo Con un'interrogazione Parlamentare urgente Al presidente Draghi Il presidente Di Unione Centro È molto chiaro Non trova Dottoressa? Sì Sicuramente Anche se la questione Delle fidei Usioni È uno dei punti Per i quali Noi associazioni Avevamo fatto Delle richieste esplicite Ovvero quello Di istituire Un albo Dei fornitori Di energia elettrica E di gas Che potesse In qualche modo Essere affiancati Da delle sorti Di fidei Usioni Proprio perché C'è la necessità Di dare anche Una sicurezza E una stabilità Al mercato Perché purtroppo In un ambiente Come quello Dell'energia Dove ci sono Centinaia e centinaia Di società Che adesso Stiamo vedendo Essere in difficoltà Concrete e quindi Abbandonare di fatto Anche i loro clienti Al fornitore Di ultima istanza Che è un fornitore Scelto a bando E i cui prezzi Sono decisamente Molto molto alti Quindi garantire Anche una sorta Di garanzia Appunto Al consumatore E in questo caso Anche alle imprese Dottoressa Stavamo guardando Nei giorni scorsi Per quanto riguarda Appunto Questa crisi Energetica E in particolar modo La riforma Cingolani Lei pensa Che riuscirà Ad aiutare I consumatori I produttori Beh guardi Sinceramente Per quanto riguarda Il ministro La transizione Ecologica Io penso Che insomma Alcune cose Importanti Siano state fatte La questione Principale però È questa Noi stiamo scontando Adesso il ritardo Mostruoso Con il quale Stiamo attivando La transizione Energetica E motivo Per il quale È necessario Che ciascuno In maniera urgente Come si diceva prima Faccia la propria parte Relativamente Appunto Alla valutazione Che il collega Stava facendo Relativamente A quanto Le imprese private Stanno facendo Di più Rispetto al pubblico Questo è in dubbio Che ci sia stata Una parte Molto importante Del privato Che si sia Attivata In maniera Coscienziosa E probabilmente Con un'ottica Più lungimirante Di quella Che abbia fatto Il pubblico Con l'adozione Di misure Atte al risparmio Energetico E comunque All'utilizzo Di fonti Rinnovabili Di energia Perché ricordiamo Che comunque Il problema Anche che sta Alla base Dei prezzi È che comunque Non c'è una diversificazione In relazione Alle modalità Con le quali L'energia Viene effettivamente Prodotta E poi Immessa nel mercato Allora Dottoressa Tra poco Cambieremo anche Argomento Magari andremo Sulle curiosità Se lei ha delle novità Da raccontarci Anche perché Guardi La faccio subito La domanda Tanto è collegata Alla crisi energetica Noi ci preoccupiamo Della crisi energetica Ne parliamo oggi Sotto un altro aspetto Ne parleremo domani Dopodomani Probabilmente Perché tanto sono Gli argomenti di attualità Che noi dobbiamo seguire Sono quelli Non è che si scappa Francesca Purtroppo no Sono quelli E rimangono quelli Anche nel corso Delle settimane Possiamo parlare Anche di mesi Adesso Però ragionare Con lungimiranza È il segreto Credo di ogni aspetto Della vita Soprattutto professionale E quindi Dottoressa Come fever consumatori Lei ha un altro Allarme da lanciare Io mi auguro di no Ma ho come l'impressione Che qualcos'altro ci sia Beh guardi Legato all'aumento Di prezzi d'energia Purtroppo Sono legate Un po' tutte Le questioni Legate al consumerismo Ovvero Ci si può aspettare Molto probabilmente Un aumento Delle tariffe Per quanto riguarda Anche il settore Delle telecomunicazioni Oppure Ci vuole Ci sarà Probabilmente Un aumento Per tutto quello Che riguarda Anche i servizi Parliamo ovviamente Di assicurazioni Piuttosto che banche Insomma Purtroppo Il futuro del consumatore Stanti così le cose Non sarà sicuramente Un futuro roseo Ma Se non ci saranno Appunto Gli interventi Necessari ed urgenti Che il governo Deve mettere in piedi Dovremmo aspettarci Purtroppo Un futuro Pieno di rincari E purtroppo Pieno di sacrifici Io torno a dire Che qui anche La scuola Ha un impatto fondamentale Cioè se noi Già Siamo praticamente Quasi della stessa età E sono cinque anni Più grande di te Abbiamo detto prima Che non si dice però L'età Infatti non ho detto L'età Come Berlusconi Non è che non me li sono dati Gli anni Non è che me li tolgo Io una volta appuntata Devo citare Silvio Berlusconi Sono fatto così Dico questo Dottoressa Capuzzo Ascoltiamo Lupi Deputato di Unione con l'Italia E poi glielo dico Lupi Chiediamo subito Ristori Immediati Per famiglie E imprese La crisi economica Che stiamo attraversando È più grave Di quella del covid Le risorse Si prendano Dai fondi europei Che sono immediatamente Disponibili E che non producono debito Allora Parlavamo con Francesca Ci confrontavamo anche Su quali fossero i temi Da affrontare ancora con lei Dottoressa Sono tantissimi Continuo sulla politica E sulla crisi energetica Si deve fare in fretta La lungimiranza Abbiamo detto È il segreto Parlavamo delle scuole Se a noi ci avessero insegnato Già qualche piccolo consiglio Qualche cosina Alle scuole Alle elementari Non parlo del liceo Figuriamoci Perché giustamente Le buone abitudini Si instaurano Da quando siamo piccoli È così E qua io potrei aprire Il metodo Montessore Potrei aprire qualcosa Che non è questa la sede Dottoressa Però Serve un'educazione Che parte da lontano Cioè qua dobbiamo sbrigarci Ma è troppo tardi È mettere delle toppe È come avere una strada Piena di buche E andare a mettere Del cemento sopra Che non serve a nulla Che col primo diluvio Viene tutto via Questa è l'impressione che ho io Allora Questa è un'impressione Che potrebbe essere Anche condivisibile La questione è che però Non possiamo E non dobbiamo perdere Assolutamente la fiducia Sul futuro Sui nostri giovani Che saranno ovviamente Il nostro futuro È chiaro che però All'interno del problema Dell'energia Ci vuole anche Una sorta di rivoluzione Culturale Quindi ci vuole anche Un cambio di passo Relativamente alle abitudini Che purtroppo Negli anni Abbiamo acquisito Ovvero Insomma La disponibilità Che fino adesso C'è sempre stata Di risorse energetiche Che io ovviamente Sono una quarantenne Non ho fortunatamente Al momento Vissuto grandi crisi O tantomeno La necessità Di un contingentamento Nell'uso delle risorse energetiche Però è chiaro Che ovviamente Ci deve essere appunto Un cambio di passo È una sorta di educazione All'utilizzo Più consapevole Più responsabile Delle poche risorse energetiche Che adesso abbiamo a disposizione Una cura maggiore Dell'ambiente Una tutela Dello stesso E quindi anche L'adozione Di piccole E buone Abitudini Che sono quelle Che anticamente Si poteva dire Del buon padre di famiglia Ovvero di tutte quelle Insomma Attività Che possono portare In qualche modo A una riduzione Del dispendio Dell'energia elettrica E del gas Francesca Suggeriva anche Un qualcosa di molto interessante Nel senso A fede del consumatori A noi qualcosina È giunto Sicuramente a voi Molto di più Le testimonianze Delle persone Che sono in crisi Non solo le aziende Dicevi Ma anche le famiglie Si come sentivamo Anche prima Esattamente Degli imprenditori Ne parliamo Tra poco Dottoressa Le famiglie Cioè L'imprenditore È in difficoltà La moglie Non lavora Bada ai figli Bada alla casa E se l'imprenditore È in difficoltà Si ritrova due difficoltà Quella lavorativa E quella A casa Che poi questo è anche Un problema Che si ripresenta Perché anche durante La pandemia Durante il 2020 Abbiamo avuto Abbiamo avuto Abbiamo avuto questo Grandissimo problema Di famiglie Che avevano Problemi economici Per la pandemia Per il covid Dicendo Passerà il covid Ci sarà la ripresa Governo Draghi C'è stata questa ripresa Ritorniamo ad oggi Se voglia E siamo un'altra volta giù Io capisco che la vita È una montagna russa Ed è anche bello Per questo Dottoressa Capuzzo Però Economicamente Non ci siamo Ecco Noi di questa generazione Fine anni 90 Inizia nel 2000 Ci siamo salvati Dottoressa Secondo lei O il peggio Deve ancora venire Guardi Purtroppo Stanti così le cose Diciamo che non ci saranno Ribadisco Purtroppo Tempi molto Rosei Diciamo così La sfortuna Di queste nuove generazioni È aver Essersi trovati Insomma In una situazione In cui I vari elementi Purtroppo Alcuni dei quali Imprevedibili Tipo quello del conflitto Si sono realizzati La questione però È una Di fatto Non ci si deve Abbattere E in ogni caso Ognuno Adesso Con le proprie possibilità Che ha Deve iniziare a fare La propria parte Ci deve essere ovviamente Una responsabilità Da parte del governo Che ne ha tutto Il diritto E il dovere Soprattutto Ci deve essere Una responsabilità Da parte delle imprese Del privato Oltre che ovviamente Del pubblico E una responsabilità Però anche del singolo Perché indubbiamente Parte di quello Che adesso Noi stiamo vivendo Sto parlando Insomma Dei disastri ambientali Di tutta La crisi idrica E non solo Ovviamente Quella dell'energetica È ovviamente Una conseguenza Delle azioni Che noi Quotidianamente Abbiamo compiuto Nella convinzione Di avere risorse Illimitate Per tutta la vita Purtroppo Abbiamo visto La natura Ce lo fa vedere Che così non è E quindi Dobbiamo ripristinare Un attimo L'ordine delle cose Avere più rispetto Avere più rispetto Per l'ambiente E appunto Come si diceva prima Adottare Dei comportamenti Molto più responsabili Dottoressa Io mi chiedevo A voi Come Feder consumatori Sono arrivate Delle segnalazioni Di crisi Da parte Comunque Delle famiglie Dei consumatori Dei produttori Dei produttori Sì E anche appunto Delle famiglie Come dicevo Prima Sono adesso Sempre di più I casi di famiglie Che ovviamente Ci contattano Nella disperazione Di non riuscire Ad arrivare a fine mese In cui appunto Come si diceva C'è anche il dubbio Su come investire I propri risparmi Ovvero Se pagare le bollette O procacciarsi Da mangiare Tra l'altro Questa situazione Di crisi Sta portando Anche molte famiglie Ad indebitarsi Quindi a chiedere Dei prestiti Proprio per far fronte Alle bollette E alla vita quotidiana Dottoressa Chiudo con una frase Che mi ha riferito Un mio amico Che ha un'impresa Molto giovane Insomma Il papà aveva questa impresa L'ha lasciata a lui E io Per scherzare a lui Ho chiesto Come fai a mettere Tutti questi soldi Da parte E lui semplicemente Mi ha risposto Beh Non devo avere una vita sociale Non devo uscire Con questo E con la notizia Che ho ricevuto Un rimborso Da parte di quell'azienda Che dicevamo In apertura Dottoressa Io la saluto Sperando Prossimamente Nelle prossime settimane Di rivederla Di rivederla E di avere Un parere Diciamo Positivo Su quello che è L'andamento Della situazione E magari anche Delle migliorie Sotto questo punto di vista Speriamo Ce l'auguriamo Ne abbiamo bisogno Ne abbiamo tanto bisogno Giovanna Capuzzo Vicepresidente Di Feder Consumatori Grazie Grazie mille Dottoressa A presto Arrivederci Buon lavoro Buon lavoro Una voce Sempre importante Quella di Feder Consumatori Ovviamente Che noi aspettiamo E vogliamo Come fai il regia Imitalo se vuoi Puoi mimarlo Fa così Basta Ce ne dobbiamo andare Che succede Quindi pubblicità Pubblicità Io non la voglio lanciare Allora Vi dirò Pubblicità Tra pochissimo Decisole Pubblicità